Vogliamo spiegare qual è l'importanza di Abruzzo Attrattivo e che cos'è soprattutto questo progetto? Abruzzo Attrattivo nasce per volontà di Federpate, che è la federazione dei professionisti abruzzesi che si dedica al turismo esperienziale e quindi non potevamo che realizzare il primo ed unico evento interamente dedicato al turismo attivo ed esperienziale in Abruzzo. Due giorni di lavoro, ci sono già 80 operatori che si sono regolarmente iscritti, ci sono chiaramente ancora qualche posto disponibile il primo giorno saremo però 130 perché ci saranno anche altri portatori di interesse, ci saranno tour operator e giornalisti italiani ed europei che si dedicano al turismo, quindi nelle sue varie sfumature. Abruzzo Attrattivo è un evento differente perché due giorni saranno due giorni dove gli operatori studieranno, dove si conosceranno, conosceranno meglio l'Abruzzo, dove ci sarà appunto tanta formazione, dibatti di gruppi di lavoro, analisi di quelle che sono le criticità, le potenzialità e soprattutto poi in conclusione la produzione di un manifesto che verrà consegnato e dibattuto con le istituzioni, quindi con i parchi, con la regione, con quelle che sono le associazioni più sensibili al mondo del turismo. È un grande evento dove la pluralità e la condivisione sono i valori fondanti. Questo è un evento Abruzzo Attrattivo del 25 e 26 che dopo dieci anni ma anche forse più rimette al centro una discussione comunque il turismo in generale. Partiamo dal turismo esperienziale che oggi è il fulcro del turismo, è quello che ogni turista si porta a casa e ogni turista trasferisce agli amici al suo territorio l'esperienza avuta in questo caso in Abruzzo. Quindi saranno due giorni dedicati innanzitutto all'incrocio tra i professionisti del turismo esperienziale e i professionisti dell'accoglienza, hotel, B&B, affittacamere, insomma agenzie di viaggio e quant'altro. Lavoreremo insieme per fare un documento che darà le basi per una discussione insieme alla regione il giorno dopo dove sarà proprio un momento di convenistica dedicato al turismo esperienziale ma con l'assessore Damario, i presidenti dei parchi nazionali, i tre parchi più il Sirente, WWF, Legambiente e Touring Club e le due camere di commercio dove parleremo di turismo. Ecco è un processo, dopo dieci anni ci risvegliamo un po' tutti e soprattutto questo perché l'ondata di Covid ha dato dei segnali completamente differenti rispetto al passato.